E chi lo sa? Veramente, veramente, ragazzi, complimenti, il lavoro è magistrale quest'anno e ve lo dobbiamo riconoscere, bravissimi, complimenti alla nuova isola, è così la protezione, che si presenta quest'anno il carro nelle mani del re Scorpione, ma questo re Scorpione chi è Berlusconi Prodi? No, non si sa, non si sa, e non si dice, non si dice perché ormai siamo in silenzio politico, non si può parlare di questo, non si può parlare di questo, ma ci siamo tutti, esatto, passiamo con l'inno, la presentazione, allora, ladies and gentlemen, here with the association, la nuova isola with the carro nelle mani del re Scorpione, presentazione! Stretta la fogna, larga la vita, bella la vita, comune che stai, dicia non li stai, l'ora che ditta giungla, le politici rampanti, addivincati sotto l'abitante, che vanno a tenettine Siano così facili lo popolo e i libri. Così, merlusca e riscossione, ligni ligni, lo tempo passano a vari, a chiara e schigli. L'associazione La Nuova Isola di Emanuele Maniscano, Vincenzo Cucchiari, Luigi Intravaglia, Michele Girardi e Maurizio Graffeo presentano il carro allegorico di categoria A nelle vani di re Scorpione. I costruttori.